Ciao Marcello, ciao a tutti i fratelli e sorelle juventinazzi di Top Land, dal vostro postman in compagnia della mia gioia, della mia gioia, Alex. Allora, caro Marcello, prima cosa, prima cosa, rinnovo fino al 2017 di Patrice Vra. Quindi, assolutissimamente d'accordo con questa scelta della Juve nel prolungare con uno dei leader carismatici dello spogliatoio per altri due anni. Poi, siamo in attesa spasmodica per l'ufficializzazione di Dani Alves. Il prossimo anno, lo stadium con Dani Alves da una parte e Alessandro dall'altra, ci vorrà l'autovelox. Detto questo, caro Marcello, io devo fare un ritorno indietro alla prima della finale di Champions. Al signor Ronaldo, all'ex fenomeno... No, a parte che in quegli anni il fenomeno vero era soltanto uno, Alessandro Del Piero. Il signor Ronaldo ha detto questo. Beh, caro, caro il mio Ronaldo, caro si fa per dire, trovo abbastanza stucchevole che parli di Juventus chi? Dalla Juve ha preso soltanto scoppoloni negli anni in cui è stato in Italia. Detto questo, detto questo, caro il mio Ronaldo, Postman, Postman, ti risponde così... Questa è un'immagine emblematica della giornata del secondo tempo dell'Inter, Ronaldo. E soprattutto ti rispondo così... Vi siete assicurati che la Lazio abbia battuto l'Inter, se ne siete sicuri? C'è poco da parlare, stiamo godendo. Questa è l'amarezza di due anni fa, a Perugia, e c'è qualcuno che ci guarda, che ce l'ha a Perugia. Adesso stiamo godendo, stiamo godendo! Ahahahahahahahahahah! Ronaldo, oh Ronaldo! Caro Marcello, ti saluto al prossimo video. Devo salutare, per forza di cose, chiaramente, Franco Leonetti, Jacaccione. Un saluto speciale al fratello Milo da Carrara, che mi ha salutato nel suo primo selfie per Topland e io rigambio. Ciao grande Milo! Al prossimo video e ovviamente, ovviamente, mentre Alex ha raffato il tablet della mamma, fino alla fine, what's up? Yes! Ciao a tutti!